ragazzi dovremmo esserci ci siamo ragazzi dovremmo essere in live perfetto vedo già la chat impazzita ciao ragazzi come state tutto bene mi sentite intanto oggi dovrei avere azzeccato l'audio fin da subito ciao ragazzi scusate per il piccolo ritardo ma ho dovuto sistemare delle cosine ciao ragazzi adesso saluto qualcuno tranquilli che sto già leggendo non vi dico che cosa robe incredibili allora perfetto mi sentite alla grande ce l'abbiamo fatta a iniziare una live senza contorni attorno alla faccia con l'audio giusto benissimo ragazzi ok vedo che siamo già quasi mille spettatori ragazzi abbiamo appena iniziato già mille persone incredibili siete incredibili veramente ciao ragazzi come va che dite io tutto bene grazie io tutto a posto ditemi mi raccomando se mi sentite e se mi vedete bene eh raga ditemi se ci sono dei problemi ok raga siamo quasi quattromila ma io vi amo vi giuro vi amo quattromila spettatori in quanto neanche un minuto vabbè raga vi sto amando ve lo giuro ok ragazzi bene mi dite che si vede bene si sente bene sono contento sì ragazzi sì avete proprio capito bene il titolo non sta dicendo falsità oggi andremo a sclerare malissimo anzi andrò a sclerare malissimo su getting over it ma non vedevo l'ora madonna ragazzi oggi io lo so già che andrò a fare proprio delle urla malefiche secondo me non è da registrare in live su getting over it perché quando monto il video diciamo che posso tagliare alcune parti in live no conoscendo questo gioco mi sa che potremmo avere dei problemi allora iniziamo a salutare qualcuno dai allora vediamo un pochino eh sì ragazzi tornano gli scleri di fengsi sì e questa volta non potranno essere tagliati proprio tutti quanti qui in diretta fantastico allora eh raga la chat è come ogni volta è tipo fast and furious proprio capito no velocissima non riesco a leggere nulla ciao allora arcidacono arcidiacono perdonami iniziamo già con i fail sui nomi poi ciao the next player allora ragazzi no però ascoltatemi un attimo io ora sto già vedendo delle cose che non mi stanno piacendo ok le donazioni ragazzi vi prego non donate ragazzi come ve lo devo dire non donate lo devo scrivere da qualche parte scriviamolo non donate ok così magari non donate ragazzi vi prego andiamo a leggere le donazioni che sono state anche tante già ci abbiamo GX Paolo che dona un euro grazie mille carissimo veramente grazie di cuore però ragazzi tenetevi i soldi davvero poi abbiamo Jumpy Gaming 2 euro grazie mille Yander Beach 1 euro grazie di cuore Filippo Faro 5 euro carissimo già l'altra volta hai donato ti prego basta teniti i soldi ha scritto un messaggio com'è che si facevano a leggere i messaggi eh raga scusatemi ma sono un po' stupido ma questo ormai lo sapete sappi che sono un tuo grandissimo fan e ti seguo da sempre ti voglio bene grazie mille Filippo grazie davvero di cuore poi abbiamo TheBest05HT anche lui dona un euro grazie di cuore Mary e Basta Miglietti due euro ciao Mary grazie di cuore però davvero non dovete non dovete poi abbiamo Alessia07 un euro grazie mille carissima baby allora l'altra volta tu mi hai donato 70 euro ok non puoi donarmi altri 20 euro oggi non lo puoi fare ti prego dai no ha scritto ti sei chiesto perché mancavo io speravo tu ci fossi nella live però non donassi nulla e invece altri 20 euro no veramente grazie di cuore l'ho preso tantissimo però raga non donate più di così cosa devo fare vabbè io comunque vi amo alla follia poi abbiamo Connor16Radu anche lui dona un euro grazie di cuore davvero Gioele Silvestri un euro grazie mille caro davvero poi abbiamo Lorena Buzala perdonami se ho sbagliato la pronuncia un euro grazie di cuore Kevin Pugliese un euro grazie mille Valerio Perfetto due euro ciao Fancy ti stimo grazie mille caro davvero lo apprezzo tantissimo e poi abbiamo GaggiaRuby 2 ore 29 continuano ad arrivare donazioni raga ma perché non mi ascoltate vi dico non donate niente non mi cacate di striscio GaggiaRuby dicevo 2 ore 29 grazie di cuore EricCF 2 euro grazie ragazzi davvero TM Evan Bomber un euro grazie di cuore grazie 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 e abbiamo ancora Mercurio Official anche lui dona un euro vi mando un bacio a tutti ragazzi gentilissimi però come vi ho detto e ridetto e ridetto non donate davvero non donate tenetevi i soldini ragazzi adesso torniamo alla chat e vediamo un pochino un euro dali 10 grazie mille caro davvero poi abbiamo Silvia Carciani no Carcagni perdonami Silvia ciao carissima poi ciao Luigi Luigi la mattina poi ciao Davide Zompatori ciao Marti la magnifica raga cerco di salutare più persone più persone possibili scusate ma non riuscirò a salutarvi tutti cercate di capirmi ma siete tantissimi tantissimi per il momento tra l'altro siamo 4500 spettatori ragazzi io ho pensare che davanti a me in realtà ci sono 4500 persone capito no questa è l'emozione cioè come ero ben credibile raga grazie per dedicarmi il vostro tempo voi potreste fare altre mille cose molto più fighe invece no state a guardare me e quindi io non posso fare altro che ringraziarvi con tutto il cuore raga le donazioni che cosa devo fare ditemelo che cosa devo fare non mi ascoltate non mi state ascoltando pro xd kevin 2 euro grazie mille caro e ha scritto sei un grande prenditi due caffè ti ringrazio però davvero tieniti i soldini caro tieniti i soldini poi abbiamo di nuovo meri e basta altri 2 euro ti amo sei il mio idolo sei speciale grazie mille meri però davvero mi basta che voi state qua con me guardare questa live passiamo un po' di tempo insieme va bene così non mi dovete dare soldi ragazzi tenetevi i soldini poi abbiamo stella cavazzoni 2 euro ti adoro sei simpaticissimo grazie mille carissima lo apprezzo tantissimo ti ringrazio Elena Rinks 99 centesimi 1 euro sì grazie mille Elena grazie 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 Lorenzo Lacorte 2 euro grazie mille caro e poi abbiamo Onky oddio Onky Skiller potrebbe essere perdonami se ho sbagliato 2 euro grazie mille caro mi puoi fare gli auguri per i 1000 iscritti ti voglio bene ma auguri carissimo tanti tanti auguri mi ricordo i miei primi 1000 iscritti ma una roba che non vi dico una roba che non vi dico ero troppo contento considerando che per i primi due anni si può dire ho avuto 76 iscritti eh diciamo che quando ho raggiunto i 1000 ero abbastanza felice per cui ti posso capire tanti tanti auguri Alessia 07 che dona un altro euro Alessia anche tu ti prego grazie però non serve raga non c'è verso raga raga mi fermo adesso mi fermo adesso siamo così niente proprio non mi state proprio ascoltando cioè perché dico non donate e appena finisco di dire non donate mi arrivano altre donazioni raga ma raga io vi sto amando di nuovo pro x kevin pro x di kevin perdonami altri due euro lo faccio solo per supportare il mio youtuber preferito ma io ti ringrazio con tutto il cuore ma tu mi puoi sopportare tranquillamente tra l'altro ho detto sopportare non supportare vabbè guardando questa live passiamo un po' di tempo insieme va bene così eh non serve donare ma lo apprezzo tantissimo meri e basta di nuovo altri due euro amore ti amo se il meri ti fa vj non è vero non credo però io grazie ragazzi no vabbè ma io boh non so cosa dire ragazzi non so cosa dire poi abbiamo sgc cedro 249 deciso un nome incredibile che dona un euro grazie di cuore carissimo poi abbiamo sarahgamer che dona un euro grazie di cuore cara eduarda09 2 euro e 29 ti mando un bacio grazie di cuore ragazzi basta vi prego questa live sarà soltanto leggere le donazioni no 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 poi abbiamo dark akai avrò sbagliato sicuramente bella fancy ti seguo dai 8000 iscritti grande madonna neanche io mi seguo da così tanto tempo te lo giuro che dona 2 euro grazie di cuore grazie soprattutto per essere mi accompagnata da così tanto tempo madonna 8000 iscritti ora siamo a 608000 tra l'altro ragazzi io ormai non ho più parole per dirvi quanto vi sto amando 608000 iscritti porca miseria devo fare lo speciale lo so vorrei fare un eagle però ditemi voi ve l'avevo già chiesto l'altra settimana molti mi hanno detto di sì alcuni no perché ci sono dei problemi però mi piacerebbe farla perché così ci vediamo anche un po' o se no provate a proporre voi cosa vorreste come speciale per i 600000 iscritti provate non lo so così un montaggio tutti quelli là i momenti più divertenti quello che volete provate a proporre vediamo un po' poi abbiamo di nuovo eduarda09 altri 2,29 euro ragazzi ragazzi eh grazie di cuore davvero poi abbiamo yuska full 2 euro grazie di cuore caro so che non vuoi ma sei un bravo ragazzo auguri grazie di cuore davvero ma io più che altro voglio che vi teniate i soldi ragazzi voglio che vi teniate i soldi ah poi abbiamo the best 05 ht domani una verifica d'inglese amico mio buona fortuna io quando sapevo che il giorno dopo avrei avuto una verifica segno della croce libro studiavo 48 secondi proprio di orologio poi mi arrendevo e il giorno dopo andavo lì che Dio me la mandi buona questa era la frase no dai quando c'era da studiare studiavo ma quanto poco credibile sono giusto per sapere perfetto se sentite voci fate finta di nulla gente che urla cani ambulanze va bene così poi abbiamo Lamari un euro grazie di cuore carissima davvero poi abbiamo Francesco Bordignonne un euro grazie di cuore caro grazie mille per il supporto vanerico 2 euro e 29 thanks si speciale ti adoro grazie di cuore carissima grazie 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 eduard09 basta è la terza donazione altri 3 euro e 49 ragazzi vi prego vi prego basta ragazzi Lamari 2 euro e 29 ciao Lamari grazie di cuore io continuo a scorrere ma tipo una roba infinita ragazzi basta ragazzi 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 non ci stiamo più fermando Andrea Di Sarno grazie mille un euro Gioele Silvestri anche lui dona un euro grazie di cuore Stella Cavazzoni un euro grazie mille grazie 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 Otti 07 un euro grazie mille carissimo ProExit Kevin basta un altro euro siete fantastici veramente ragazzi fantastici grazie mille Elisa XXL 2 euro e 90 per il mio idolo grazie mille Elisa ti mando un bacione Light Keron 92 5 euro ciao grazie mille per farmi divertire ogni giorno ma non mi devi ringraziare sono io che ringrazio voi grazie mille per il supporto ma non serve ragazzi e poi abbiamo TheBest05HT altri 2 euro farai video su Brawl Stars no ragazzi non è un gioco che mi entusiasma più di tanto sono sincero l'ho provato un po' di tempo fa non mi piace moltissimo per cui non penso proprio però vediamo intanto arrivano messaggi e ragazzi ragazzi come ogni live cos'è che vi ricordo di fare se già non lo fate ovviamente allora mi raccomando se avete un profilo Instagram andatemi a seguire questo è il profilo Fancy scritto normalissimo mi raccomando se avete Instagram e già non mi seguite vai andatemi a seguire adesso in questo istante voglio vedere i follower proprio no una roba e ovviamente anche su YouTube se ancora non siete iscritti al canale mi raccomando raga iscrivetevi adesso mi raccomando ragazzi mi raccomando no Instagram è figo è un bel social mettiamo le foto no ci sta ci sta dai andatemi a seguire se avete Instagram soprattutto mi raccomando andate adesso e lasciate like alla live vediamo a quanto siamo e in base al numero di like vediamo se iniziare subito a giocare a getting government oppure aspettare un pochino vediamo siamo a 3473 like 44 non mi piace così probabilmente i non mi piace sono per il cane di prima che abbagliava per i rumori mi raccomando raga like 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 facciamo che iniziamo a giocare a getting over it a 5000 like ne mancano 1600 diciamo per cui vai coi like lasciate like alla live e a 5000 iniziamo a giocare a getting over it che dite si può fare ci sta come cosa eh teniamo aggiornato così vediamo subito siamo già 4256 e 57 non mi piace i non mi piace proprio stanno esplodendo completamente a caso gli hater quelli che proprio mi odiano tantissimo dai così ragazzi lasciate like e così iniziamo a getting over it ho visto già altri 10 euro ragazzi mamma mia ragazzi poi la gente inizia a odiarmi pensando che io voglio i soldi dei miei iscritti no ragazzi no no probabilmente alcune donazioni le ho già anche perse perché ne sono arrivate tantissime francesco cardillo 2 euro 29 grazie mille francesco grazie mille simo ame derb thanks ti adoro sei una bella persona grazie mille caro 2 euro 29 ti ringrazio tanto dark royale 2 euro buona live grazie mille speriamo bene speriamo che sia tutto ok magi giovanni magi giovanni 2 euro ti adoro grazie mille grazie mille giovanni grazie di cuore poi abbiamo massi gamer 82 10 euro fancy sei fantastico grazie mille però questi soldi potevi tenerteli eh grazie comunque davvero per il supporto filippo faro anche lui dona di nuovo 1 euro grazie filippo però basta debes 05 ht di nuovo altri 2 euro qual è la tua qual è la tua forma geometrica preferita il cerchio a caso non lo so è la prima volta che mi chiedono qual è la mia forma geometrica preferita il cerchio così a caso non ne ho una preferita anche perché io e la geometria non siamo mai andati d'accordo ci picchiavamo tantissimo poi abbiamo francesco papaleo 2 euro grazie mille francesco youtuber più semplice e umile di tutti numero 1 grazie mille francesco davvero l'ho apprezzo tantissimo e poi abbiamo lorenzo la corte 2 euro mi fai sempre ridere ti voglio bene grazie mille carissimo ti voglio bene anch'io e son contento di riuscire a farti sorridere davvero è la cosa che conta di più per me salutiamo ancora qualcuno mi avete detto che siamo arrivati a 5.000 like vediamo 5.264 like 76 dislike signori io leggo anche i dislike perché sono importanti ok saluto ancora qualcuno e poi si può iniziare ad andare a soffrire malissimo con l'uomo vaso da notte bene così allora ciao Matte Inberti Mauro Bracaglia tu ti chiami Mario? sì mi chiamo Mario mi chiamo Mario sì poi saluto ancora ciao Lorena Di Salvatore ciao Alessandro Facchini ciao Mattia Farfaglio ciao Sara Rotaru e ovviamente raga ripeto se sbaglio le pronunce non odiatemi e che sono stupido e lo sapete adesso iniziamo tranquilli raga ho visto che siamo arrivati a 5.000 e ora si va proprio madonna io vi giuro già sto avendo proprio un brutto presentimento io lo so che oggi proprio finisce male raga Getting Over It è proprio un gioco brutto è proprio l'incarnazione del male poi abbiamo ciao Manuel Cucchi ciao Arianna Maculani ciao Desiree Luisi ciao Paolo Caporaso raga non bestemmiare non si bestemmia raga non bestemmiare tra l'altro non bestemmiate vabbè è che stavo leggendo non bestemmiate raga dai non ha senso poi Mimi Kifor assomiglia a mio padre e manco a farlo apposta si chiama Mario e vabbè e che ci dobbiamo fare poi ciao Leila 07 grazie mille Leila ti ringrazio tanto bene poi saluto comunque ancora altri raga nel corso della live però siete davvero tanti e purtroppo non riesco a salutare tutti mi dispiace proprio tanto vorrei salutare tutti dal primo all'ultimo ma proprio non si può fare raga non si può ciao Valle Valletta Andrea spero di averlo detto bene ciao Emanuele Sciallo ciao Girl Dark ciao Black 303 ciao Creeper The TNT ciao Emilio Darki ciao Leonardo e ho perso il nome porca miseria ah non l'ho trovato Leonardo Vannini grazie mille carissimo grazie grazie poi c'è the metaleyes madonna la mia pronuncia è proprio shish io ho finito getting over it come con quali mani me lo stai dicendo sei un mostro ma non si può fare io raga ho registrato cosa sei episodi sette non mi sono mosso di un millimetro cioè questa cosa è triste è proprio triste sì sono anche io scemo che non so giocare però è triste ciao skateboardita ciao valeri palacios papapapa ciao paolo mazz07 ciao stimmy20 e raga più che salutare così non posso proprio fare dai allora iniziamo raga iniziamo raga mi viene a piangere no altri 5 euro baby basta basta non puoi avermi donato altri 5 euro non lo puoi fare siamo già quasi a 100 euro donati baby basta per favore te lo sto chiedendo basta però ti ringrazio davvero con tutto il cuore per il tuo supporto raga dai vediamo l'ultima volta quanti like siamo e poi si inizia proprio a soffrire continuate a lasciare like raga non fermatevi a manetta dai cerchiamo di arrivare a 15.000 like dai che nella scorsa live ci siamo riusciti e siamo andati anche oltre siamo arrivati se non sbaglio a 18.000 vai ragazzi lasciate like che non costa nulla pollice in su fatelo diventare blu quel pollicino quel pollicino dai lasciate like ragazzi e anche i dislike stanno aumentando signori 82 e questo cos'è che mi fa capire che queste 82 persone non gliene frega nulla di che cosa faccio di che cosa dico è proprio un odio profondo non avrebbero nessun motivo per lasciare un dislike in questo momento potresti lasciare dislike guardandomi giocare a getting over it e proprio ti sale il crimine dici quanto fa schifo questo e lasci dislike ma fino a questo momento ho solo parlato quindi ecco qua ci sono 82 haters sul mio canale probabilmente molti di più ma che arriveranno nel corso della live state tranquilli che non mancano mai ma io vi ringrazio ringrazio anche voi infatti sono già 113 signori una roba incredibile però siamo anche a 6200 like continuate a lasciare like raga non costa nulla è gratis dai raga basta ci mettiamo le cuffie facciamo una pregherina no vi giuro sto avendo l'ansia proprio l'ansia no perché sono così le cuffie non dovrebbero essere così scusate un attimo 2 3 4 5 6 che ogni tanto si ingigantiscono ci siamo ragazzi ci siamo allora prima devo fare una cosa ho creato questa ho creato questa maschera e devo mettere la mia faccia attorno quindi perdonatemi un attimo che faccio questa cosa che non mi verrà mai nella vita al primo colpo ma ci proviamo allora so che si potrebbe fare con una dissolvenza cose fighe ma non so come si fa ragazzi proprio semplicemente devo ancora imparare dai così dovremmo esserci e qua sotto adesso dovrebbe apparire getting over it vediamo se si vede aspettate un secondo dovremmo esserci vediamo ehi problemi tecnici quando si fa una live ragazzi è tutto in diretta è tutto qui si ci siamo ragazzi io potrei fare anche continua ma tanto il continua è stupido è stupido perché tanto sono sempre all'inizio guardate no è proprio un odio profondo verso questo pelato inutile no ragazzi no no ragazzi no dai allora mi raccomando pregate per me cerchiamo intanto di andare un pochino oltre rispetto a dove siamo arrivati finora con 11 video proviamoci perlomeno comunque chi è riuscito a finire questo gioco mi deve spiegare come ha fatto perché ecco iniziamo bene già mi spingo via che poi no il problema di questo gioco è che i movimenti sono sempre completamente a caso non fa mai lo stesso movimento quindi adesso mi bloccherò in questo remo per un'ora no allora ti prego pelato io ti chiedo almeno oggi di darmi una mano eh ti prego anche piccolina eh io non chiedo ecco esatto bravissimo così non così ecco cerchiamo per favore di superare la casetta ti prego dai ok ragazzi dai piano piano no no ma non è successo nulla stiamo calmi ragazzi dai con calma si arriva lontano tranquilli ragazzi che oggi si va proprio spediti eh devo cercare tra l'altro di non sbattere le cuffie di non dare pugni sulla schivania perché queste cuffie tra l'altro penso siano fatte d'acciaio perché ancora non si sono rotte e non so come questa cosa sia possibile le ho scaraventate da ogni parte della casa e ancora funzionano bene così ragazzi dai vuoi super no allora devo mantenere la calma allora superiamo la casetta per favore questa casa è una roba brutta perché ha il tetto che proprio scivoli no proprio ma perché dovresti salire con un martello capisco un piccone che inficchi dentro no un martello ma qui perché allora perché si dentro un vaso il creatore di questo gioco ha pensato dai facciamo un bellissimo gioco dove le persone possono divertirsi ok siamo calmi madonna sì però sì però non posso fare due centimetri avanti e 37 indietro eh non va bene questa cosa non dico niente facciamo finta che vada tutto bene benissimo vedete che quando fai finta che va tutto bene poi le cose effettivamente iniziano ad andare bene io vi giuro ragazzi che non lo faccio apposta non sto scherzando perché poi magari qualcuno pensa eh ma cadi così almeno fai la battuta no no dai ti prego ok oh sì poi a un certo punto inizi a fare delle robe incredibili così a caso fai le stesse cose di prima però una volta cadi la volta dopo invece vai lontanissimo vedete che a caso sto gioco ok il caffè via oh no sì ole signori stiamo calmi che questo punto ormai lo conosco a memoria quante volte l'avrò fatto ma io ho perso il conto però stiamo andando avanti per cui adesso dai così che adesso arriva il vero primo punto brutto che non è questa trave questa sì è scivolosa però ecco vedete si fa abbastanza in fretta è qui che partono le madonne perché ci allora devi salire su queste lanterne non si può fare come si fa a salire in verticale questo gioco già è difficile dovendo andare dritti in orizzontale figurati in verticale stai fermo per favore dai proviamoci piano piano mettiti bene martello datti un bello slancio oh no pensavo di avercela fatto al primo colpo già sì sarà dai vediamo quanto ci vorrà dai no ma sono proprio curioso raga staremo qua un'ora così a guardarci perché tanto più di qua io non vado e se dovessi superare questo questo succede tutte le volte che registro un video stessa immagine salgo scendo ritorno su mi aggrappo poi scivola perché fa tutto ha una vita propria sto pelato lo dovete capire ha una vita propria lui in realtà ha dei sentimenti per quello lo insulto sempre pelato inutile grazie eh ho letto un fai schifo però poi aspettate voglio leggerlo diciamo anche il tuo perché si è chiuso no eh Gaetano Gaetano presta fai schifo grazie mille Gaetano tu sì che sei una persona intelligente anziché dare un giudizio dare dei consigli alla persona fai schifo così ottimo grazie mille sì questi sono i commenti che amo fantastico ragazzi fantastico e Giselda Cerullo secondo me non ce la fai nemmeno nel 2020 e hai ragione hai assolutamente ragione non ce la farò mai raga ah tra l'altro se dovete andare tranquilli tranquilli andate senza problemi mi ha fatto piacere rimanere un pochino in vostra compagnia ma se dovete andare andate tranquilli ragazzi davvero poi tanto tanto cosa ho detto dovremmo rimanere in live fino 6 6 e mezza per cui potete anche tornare dopo in caso doveste fare altro tranquilli ragazzi bene torniamo a noi alle cose importanti no ai pelati che saltano con i martelli dai ti prego dai ok oh eh eh no però se io metto il mouse per andare così tu non puoi andare dalla parte opposta capisci che non andiamo d'accordo ma io non capisco i comandi come sono stati fatti da chi poi c'è uno che ha studiato oh ma ci sto riuscendo sempre stavo scherzando perché tanto non si può fare però il primo salto eh una volta non riuscivo a farlo così spesso eh vediamo se riusciamo vai ok no no allora no ragazzi non si può non si può fare non si può fare ma chi ha finito questo gioco voglio dire come come fate io devo capire no ma io ma io non ho più le forze e sono sicuro che in realtà questo non è nulla ragazzi il vero gioco inizia dopo cioè questa in realtà è soltanto una specie di tutorial secondo me della serie dai impara i comandi e poi dopo inizia veramente a farti sclerare ma sei impazzesco qui ma ma perché no ragazzi si è buggato no ma vedete che a caso ho sbattuto il mouse e è andato da solo vabbè ok dai e andiamo avanti oh no ti prego non ti incriccare non cadere sali su piano dai sì boh quanto ci abbiamo messo 28 minuti a fare 3 metri dai vabbè poteva andare peggio tanto adesso cadrò giù di nuovo cosa cosa continua non ha senso va bene dai adesso questo punto è tragico eh se dovessi cadere dalla parte sbagliata tornerei all'inizio per cui vai sulla montagna ok si ragazzi si subito così no ok stavo scherzando prendiamoci i nostri tempi stiamo calmi ok ce la si fa ragazzi ce la si fa con calma con calma ce la si fa allora intanto voglio controllare così like dislike tutto quanto per tenere sotto controllo così siamo a 7000 like 126 dislike mi raccomando quei like raga mi raccomando per supportare le mie sclerate disumane su questo o proprio di gioco dai coi pollicioni dai dai coi pollicioni ragazzi mi raccomando tra l'altro appena ho iniziato a giocare a getting over it sono aumentati anche i spettatori vi piace vedermi sclerare ammettetelo e questa cosa non può che farmi piacere mi raccomando eh raga continuate a lasciare like forza così intanto oh ehi no dai con calma forza così per favore te lo sto chiedendo cerchiamo di andare avanti dai dai si oh no io ho questo mouse no cerco di essere leggero nei movimenti ma tanto lui si spinge lì si spinge l'avete visto no non sto scherzando si è proprio così fa fa questi movimenti oddio ragazzi oddio santo no ma seriamente chi ha finito chi ha finito questo gioco come quanti anni quanto allenamento ci vuole no perché io ragazzi ho appena perso penso un anno di vita non sto scherzando ma porca miseria ma mi spieghi perché chi ti ha detto di buttarti da questo lato ma porca di quella vigliaccaladra vi giuro questo gioco proprio provoca infarti dai e ti prego ora avete capito quando registro un video cos'è che succede perché voi vedete tagliato e sembra che in 5 minuti faccio tutto no sto delle ore qua sì ok no ma io lo sapevo ci avrei scommesso un rene no ma perché mi odi ragazzi è infattibile non si può fare e siamo tornati alla casetta ma ditemi voi perché io ma basta buttarti giù a caso ma secondo me anche il mouse che è proprio una cacata perché io non è possibile ha dei movimenti troppo strani dai forza ok non c'è verso 5 passi avanti 87 indietro andiamo avanti così guarda che schifo guarda ragazzi di quanto ci siamo mossi di quanto ci siamo mossi siamo tornati da dove abbiamo iniziato ditemi voi se questo gioco è normale questo gioco causa proprio cattiveria nelle persone io divento un'altra persona quando gioco a getting over it divento un altro la parte proprio maligna esce fuori dice ciao eccomi qua stai giocando a getting over it di nuovo eh povero sciocco dai ok oh no eh bravo no ok eh ragazzi questo gioco veramente manteniamo la calma dai perché questo gioco se ti arrabbi è solo peggio ti incricchi in una maniera spaventosa e non vai più avanti per cui tranquilli con la calma voglio dire si fa tutto tranquilli ragazzi tranquilli ah là vedete no con la calma si fa tutto eh sì intanto ragazzi io vi ringrazio sto leggendo ogni tanto la chat e che mi dite lo sapevo che saresti caduto lo sapevo anch'io lo sapevo anch'io ragazzi come si può non sapere che si cade in questo oh eh oh è una è una cosa risaputa questo gioco è stato creato con l'apposito scopo di rovinare le persone capito tutto qua il creatore del gioco no vorrei capire ma riesce a dormire la notte sapendo di aver creato una roba del genere vorrei proprio capire questa cosa come fai dai sali no ragazzi un attimo un attimo un attimo Giancillo 1 2 3 4 5 6 che palle sta live io vado ok allora ragazzi io non so probabilmente alcuni di voi proprio lo fanno perché si divertono ma in una live dove c'è scritto live su getting over it cosa ti aspetti di vedere io che vado a comprare il formaggio cosa l'apri a fare ma io la gente proprio non la capisco ciao libero ciao libero nato se devi studiare vai tranquillo buono studio grazie per essere passato ciao giuseppe desposito grazie mille ciao Gaia Carbonara ciao Viviana Boiano sei bellissimo e bravissimo in entrambi i casi no non è bello però ti ringrazio tanto ciao Alessandro Istuli ciao Paola Barone grazie di cuore grazie 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 e lo so lo so che lo sapevate che sarei caduto Andrea Lamage io non mi sto divertendo che ti devo dire mi dispiace non so cosa dirti io sto giocando a un gioco che non fa ridere anzi fa sclerare e non poco per cui voglio vedere te a divertire le persone su un gioco che non fa ridere però capisco che non posso piacere a tutti per cui mi dispiace vai a guardare altro e boh torniamo a noi forza così allora ragazzi discorso hater e queste cose qua ve l'avevo già spiegato l'altra volta a me non dà fastidio ma sapete che cosa vuol dire per nulla i commenti dell'hater ok siamo sinceri principalmente sono commenti fatti da bambini dai 13 ai 14 anni una cosa del genere che scrivono delle cose eh dai per cui a me non fanno né caldo né freddo io me la prendo molto di più per altri commenti i commenti significativi quelli che contano davvero per me sono quelli in cui mi viene dato un consiglio per esempio mi viene detto guarda fancy io apprezzo quello che fai ma ultimamente non mi piace il tuo modo di essere che ne so perché non provi a fare così questa è una critica costruttiva ma uno che mi dice fai schifo e che cosa mi cambia a me della mia vita una persona che non conosco e che sicuramente non conosce me se mi dici fai schifo e io ti dico ok lo so anch'io dico che faccio schifo non è che me lo devi dire tu non mi devi illuminare la vita dicendoti dicendomi queste cose ovvie no dai per cui ragazzi io vi dico fatevi furbi e intanto continuo con sta casa da un'ora dicevo fatevi un pochino furbi ma perché vi dico questo perché voi state utilizzando del vostro tempo prezioso per fare cose costruttive per scrivere delle cagate scusatemi ma sono cagate su un video di una persona che non sa minimamente chi siate quindi tu che pensi che scrivermi fai schifo mi rovinerà la giornata mi dispiace più che altro te la stai rovinando tu perdendo del tempo che puoi usare per fare altro ma non parlo solo nei miei confronti verso qualsiasi persona insultare lo youtuber ormai non ha più neanche tanto senso una volta c'era l'hater ma ormai basta ragazzi cioè dai solite cose fai schifo kank vabbè quella parola lì che non voglio ripetere che oh raga non si può fare sono dovuto non riesco più neanche a parlare mi mangio le parole dai è stato nato nuovo all'inizio ma per favore va come se messward comunque alessio guadieri c'è una strada segreta dove vabbè di sicuro se c'è anche se dovessi trovarla non riuscirei a percorrerla perché tanto cadrei quindi non ha molto senso però grazie per avermelo detto no ma lo so è sicuramente ci ci sono un sacco di trucchetti su questo gioco c'è la possibilità di andare molto più spediti nell'ultimo video tra l'altro ho visto un ragazzo che ha fatto un gameplay tra l'altro questo qui aveva la pentola d'oro la pentola d'oro e ha finito il gioco in 54 secondi ragazzi vi giuro mi ha fatto sentire proprio uno schifo ma uno schifo 54 secondi finirlo tutto ma io in 54 secondi avvio il gioco ma neanche e ho è così no eh poi hai movimenti invertiti guarda guarda ma guarda no ragazzi io vi giuro sembra fatto apposta ma porco schifo se non è fatto apposta io sto così stai perdendo spettatori ragazzi è normale non può piacere a tutti getting over it magari uno apre la live giusto per entrare salutare o insultare e poi se ne va giustamente non è che tutti possono stare qua tutto il tempo a guardare me che gioco a getting over it ci sta quindi il motivo è quello anche io molte volte sono entrato nelle live di altre persone per per vedere un attimo come andavano le cose e poi uscivo ma è così che funziona ma sono contento che comunque ci siano più di 3000 spettatori in live in questo momento che mi stanno guardando imprecare grazie mille ragazzi per dedicarmi il vostro tempo sappiate che per me è davvero una cosa importantissima dai cioè io sto sudando ma non si dovrebbe sudare su un gioco cioè dovrebbe essere una cosa dove ti rilassi rilassarsi su getting over it bella questa nel video che ho visto nello scorso video il tizio non è salito da questo lato ma di qua come cioè non ha neanche utilizzato le lanterne ma è un mostro un mostro dai no ragazzi non ce la faccio non si può intanto guardo un po' qua guardo un po' la chat vedo i vostri consigli ma raga i consigli su questo gioco eh servono ben poco capite perché se poi io sono stupido ho la mano proprio che non funziona io posso avere tutti i consigli di questo mondo ma ma poi guarda come scivola guarda vabbè no ma in questo gioco secondo me non basta neanche essere bravo devi anche avere proprio la fortuna non lo so cosa serve ma guarda appenditi per favore no eh poi ragazzi saluto ancora tranquilli saluto ancora non è finita qua concedetemi solo un po' di tempo per cercare di superare almeno questo punto delle lanterne perché ormai giuro non la sopporto più esatto così ok adesso mi raccomando piano ok dai non sto scivolando raga stava scivolando ho dovuto fare un qualcosa di brutto eh e mo eh son fottuto vero son fottuto no piano ok forse ci siamo salvati dai ok ragazzi dio santissimo un attimo che così saluto ancora eh ciao no a official grazie mille per esserti iscritto al canale e aver attivato la campanellina grazie di cuore lo apprezzo davvero tanto ciao nicoletta casarine tranquilla se devi andare vai tranquilla ragazzi ci sta è giusto così se dovete fare cose fate senza problemi ciao hop the sad wolf che in realtà si chiama diana ciao diana allora vediamo lydia callegari mantieni la calma no ragazzi non si può mantenere la calma su questo gioco non si può ciao ciao x extreme 80 ciao aurora camba ciao meda d'amando ciao ragazzi ciao 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 gianpaolo ti seguo da più di tre anni grazie mille mamma mia da quanto tempo grazie di cuore ciao elisabetta orsini eeeh scusa devo andare con mio papà ciao 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 wizard vai tranquillo non ci sono problemi ragazzi se dovete andare andate tranquilli questo gioco fa schifo sarabombe hai ragione hai assolutamente ragione mamma se fa schifo davide devi andare a fare la spesa vai tranquillo ma ci mancherebbe vai tranquillo ho letto nello spawn c'è una strada segreta non credo ragazzi ho visto c'è l'acqua se ci provi ad andare muori malissimo ciao giulia de sole candy la zibe un gattina cute the best dei nomi incredibili in chat stiamo sclerando male per quale motivo che sta succedendo ciao giuseppe troiano eeeh ciao adam ketzanger ketzanger starò sbagliando tutti i nomi raga scusatemi eeeh ciao rosa ciao filippo carli ciao jacopo romeo eeeh ciao kioshi27 anche io ti voglio bene grazie mille ma sono arrivate altre donazioni sono arrivate altre donazioni ragazzi basta donare vi prego ragazzi basta donare raga allora abbiamo francesco papaleo un euro grazie di cuore mikilove 2 euro grazie mille lo prezzo tantissimo abbiamo veronica canori un euro grazie veronica baby abbiamo altri 5 euro basta basta ti prego scommetto che hai paura perché metti che ti arrabbi e tiri un bestem non bestemmierò ma raga questo gioco purtroppo tira fuori la parte peggiore di me mi fa proprio sclerare come una iena ed uno sciacallo messi insieme poi abbiamo rct drago 2 euro se è il mio youtuber preferito grazie di cuore davvero lo apprezzo tantissimo poi abbiamo evda 26 2 euro sei un grande mi fai troppo ridere sono contentissimo io ti ringrazio io mi sto divertendo un pochino meno perché sto in realtà cioè io questo gioco cioè ragazzi fa proprio non lo sopporto ragazzi davide numero 9 un euro grazie mille davide lo apprezzo tantissimo poi abbiamo Federica Rovigo un euro grazie di cuore grazie di cuore davvero poi abbiamo Mortal un euro grazie di cuore anche a te un euro però non c'è il nome non so mi dispiace non c'è il nome non c'è nessun messaggio mi sa che l'hai ritirato tu vabbè comunque nulla Fede 148 un euro grazie mille Fede poi abbiamo il cane più figo di youtube 2 euro sei bravissimo grazie mille tra l'altro molto figo il tuo nome tra il cane più figo è giusto e poi abbiamo Elisa XXL un euro grazie mille Elisa anche a te bene ragazzi ma io sono contento che mi state divertendo io eh più o meno no dai è un gioco che come dire fa sclerare questo si però immagino il riuscire a finirlo deve essere una soddisfazione ma incredibile raga incredibile cioè ti senti un dio oh ehi e che sta succedendo ma così proprio a caso vedete questo è il gioco a caso per un'ora non ti muovi di un millimetro poi all'improvviso fai tutto ok ok si raga la live si rimane rimane sul canale si quando volete potete andarla a guardare senza nessun tipo di problema andate tranquilli intanto controlliamo anche su instagram mi raccomando come già detto se non mi seguite andatemi a seguire vi faccio vedere per l'ultima volta il profilo che è questo qua questo ragazzi fancy scritto normalissimo mi raccomando se avete il profilo instagram andate a seguirmi e andate a lasciare like all'ultima foto che ho messo tra l'altro oggi scrivendo hashtag live una cosa del genere così da capire chi c'è alla live vediamo intanto mi piace non mi piace poi riprendiamo che comunque stiamo facendo dei piccoli progressi con una lentezza inenarrabile ma li stiamo facendo vediamo subito siamo a 8.638 like e 149 dislike mi raccomando raga dai eco i pollicioni vediamo se riusciamo ad arrivare a 10.000 15.000 like forza ragazzi dai che è gratis è gratis no comunque raga adesso visto che in live si può parlare in questo modo nel senso posso approfittarne per parlare con tutti anche con chi solitamente mi odia ok io capisco che su youtube ci siano persone a cui proprio youtube lo youtuber non va a genio proprio gli sta qua e lo capisco capisco anche di non poter stare simpatico a tutti è una scusate un secondo annalisa bardini annalisa annalisa bardini dona ben 50 euro annalisa io io ti ringrazio no però devi capire che questi 50 euro io vorrei che tu te li tenessi in tasca no ragazzi 50 euro annalisa annalisa bardini ma di che cosa stiamo parlando annalisa no ragazzi dai così no però 50 euro eh grazie comunque annalisa veramente lo apprezzo tantissimo grazie di cuore mamma mia ragazzi io vi amo stavo dicendo intanto aggiusto un attimo stavo dicendo so di non poter stare simpatico a tutti e meno male che sono caduto qua un centimetro dopo essere tornato lì io ragazzi io no no non ce la faccio è più forte di me questo gioco è una cacata va bene il creatore di questo gioco e pensavo di aver fatto dei progressi no ero contento no non c'è verso non c'è verso tornerai sempre all'inizio stavo dicendo anche per tutti gli altri youtuber è normale non si può stare simpatici a tutti ma anche nella vita reale non si parla solo di youtube facebook instagram dei social in generale proprio nella vita contrarete sempre per una persona che vi dirà guarda a me proprio non stai simpatico levati e ci sta può capitare quindi la stessa cosa succede su youtube magari accentuata perché perché si scrivono commenti da un telefono e quindi uno si sfoga dice tanto ma chi mi becca posso scrivere quello che voglio quello là tanto non sa neanche chi io sia e boh quindi su youtube questa cosa è accentuata però c'è da tutte le parti ma guarda che schifo io ci sto provando a mantenere la calma ma dura ancora poco ragazzi ma proprio poco credetemi porco porco schifo porco schifo porco schifo pelato inutile io sto rompendo anche il mouse tra l'altro in tutto questo poi mi chiedo ma non è che sarà il mouse che fa movimento chissà come mai lo lancio via ah e un'altra cosa ragazzi a chi sente il bisogno di insultarmi senza motivo mi raccomando di scrivere bene perché se io leggo sei un co puntini puntini con la j oppure senza la i capite che perde già il commento in sé non ha senso se è scritto pure male capite che perde ancora più credibilità per cui mi raccomando se dovete insultare scrivete bene almeno ma io non ce l'ho con voi l'ho detto anche nella scorsa live dai 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 bravo perfetto io non ce l'ho con gli hater perché immagino che siano raga non è una cattiveria non è un insulto bambini è la verità che magari hanno che ne so 13 14 anni e magari aspetta che ho letto una cosa intanto se sentite il cane ecco gli scoli gli scoli gamer raga perdonatemi coglione con la l capisci che questo tuo commento per me è solo da riderci sopra non mi fai niente giuro a me dispiace ma se voi partite col presupposto di insultare qualcuno per farlo soffrire fallite ma credetemi lo youtuber adesso vi svelo una cosa nel mentre che provo ad agganciarmi qui ok vi voglio svelare un piccolo segreto ragazzi lo youtuber quando legge un commento idiota perdonatemi ma quando uno scrive queste cose è un commento idiota cos'è che pensa cavolo la mia vita fa schifo adesso mi ha insultato oppure pensa ora io faccio lo screen di questo commento ne accumulo un pochino e poi ci faccio un video sopra dove prendo un pochino in giro queste persone secondo voi cos'è che succede tra queste due cose secondo me ci arrivate voi dovete capire che lo youtuber è quasi contento di ricevere questi ti commento madonna ho perso un anno dai dai no raga si è incliccato raga si è incliccato raga non sta andando che devo fare perché non va raga vi giuro non va raga non posso cadere si no oh oh madonna si si ragazzi e si va avanti intanto c'è il cane che sta bagliando da mezz'ora e basta dicevo lo youtuber credetemi raga ma io lo dico per voi perdete solo tempo a insultare non ha senso non serve proprio a nulla ma nulla nulla poi molti mi diranno ma lasciali perdere invidia ma si ma mettete quello che vuoi può essere invidia può essere anche soltanto disprezzo può essere anche solo che quella persona ha passato una brutta giornata e quindi si sfoga su youtube ma rimane comunque un commento idiota cioè non cambia non è che perché hai passato una brutta giornata allora va bene allora il tuo commento diventa sensato se insulti senza motivo anzi se insulti punto perché se vuoi dire qualcosa a un youtuber perché non ti piace non serve insultare voglio salire da qua si sicuramente qua sopra ci sono delle scale ma tanto lo sapete meglio di me perché qua in teoria si taglia ma è difficilissimo salirci come faccio devo darmi tipo lo slancio una cosa del genere ma raga non si può fare perché no raga non ce la faccio non si può adesso tutti iniziano a scrivere fantastici siete fantastici adesso tutti stanno iniziando a scrivere coglione mamma mia mamma mia no ma io lo capisco che molti di voi sono anche ironici lo fanno per scherzare ma ci sono persone invece che sono convinti di quello che scrivono capito sono convinti che scrivere l'insulto serva a qualcosa poi raga quello che dico sempre vi fa così tanto piacere fatelo eh non sarò di certo io impedirvelo potrei tranquillamente bloccarvi potrei tranquillamente segnalarvi così vi potrebbero tranquillamente ma raga ve lo giuro disattivarvi l'account e quindi dovreste aprirvi un nuovo account e per insultarmi dovreste aprire di nuovo il video quindi mi dareste la seconda visualizzazione potrei fare mille cose ma decido di non fare niente per lasciarvi lì e farvi capire che semplicemente i commenti stupidi li ignoro o li prendo in giro in live o in un video eh raga non si può ma come fai a salire sulle schede non si può 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 eh però se poi tu non aiuti voglio dire eh allora io ci provo ancora un paio di volte poi raga mi sa che la strada percorribile per me e salire dal barbecue perché da altre parti io non ce la faccio scivola ma che martello è allora dai allora e dai c'è la vasca facciamoci la doccia dai facciamoci il bagno vai al posto tanto l'acqua ce l'hai nel calderone mamma mia ragazzi non si può fare non si può no non posso farcela ragazzi io apprezzo la vostra fiducia nei miei confronti ma non si può non si può tra l'altro ho letto che ci sono le hack cioè i trucchi su questo gioco sappiatelo che probabilmente li scaricherò tantissimo voglio finire questo gioco anche se non utilizzerò mai le mie forze perché non si può fare voglio finire questo gioco voglio avere un trucco che praticamente lui inizia a muoversi da solo si appende da tutte le parti come uno scimpanzè e io devo stare fermo così a guardarlo dai finisci il gioco e poi farò una storia dove dico ho finito il gioco con le mie forze sarà no veramente però ci sono i trucchi su sto gioco raga no perché sarebbe tipo la cosa più bella della vita non si può fare vado sul barbe e più raga così cado e boh perché se no invece fare così e no ma va tutto storto guarda che ma hai fatto la convergenza a sto cavolo di martello stiamo calmi stiamo calmi no raga ma è alto no ma poi vedete che si butta via si lancia proprio come se fosse Tarzan poi comunque ragazzi io lo capisco anch'io ogni tanto ho delle brutte giornate giornate in cui succede qualcosa che ti fa nervosire quindi io non voglio neanche dare troppo la zappa sui piedi a tutti quelli che scrivono commenti stupidi perché magari l'ha scritto in un momento in cui proprio era ce l'aveva fin qua ha aperto magari un mio video ha visto la mia faccia è ovvio che ti sale il crimine e quindi ha scritto magari un insulto però magari non ce l'ha neanche con me io lo capisco però ragazzi cercate di capire che youtube deve essere un momento in cui uno entra dopo aver passato magari una giornata difficile a scuola a lavoro qualsiasi cosa e si svaga per quei dieci minuti si fa quelle due risate oppure sta soltanto in compagnia è molto più semplice che stare lì avvelenarsi il sangue per una persona che alla fine neanche conoscete guarda guarda ad esempio sto pelato lui vive tranquillo nella sua bolla di vetro dove dice ma io tanto salto dove cavolo mi pare mi lancio via quello lì che sta giocando schlera come un t-rex ma tanto io sono tranquillo fate come il pelato lui è tranquillissimo non gliene frega nulla di quello che succede attorno a lui adesso mi calmo ve lo prometto che adesso mi calmo aspetta che no ho letto ve lo trovo adesso lo trovo Eleonora Boschi non è una giustificazione a certi insulti hai ragione è vero io non giustifico queste persone però allo stesso tempo mi viene da pensare magari uno ha avuto una giornata difficile e magari insultandomi poi si sentono anche meglio quindi io dico se l'insulto che è strano da dire in effetti però se l'insulto vi fa sentire meglio in quel momento allora insultatemi perché io ragà voi potete anche non credermi ma io voglio il meglio per voi ok quando siete sul mio canale voglio che voi vi divertiate voglio che voi stiate tranquilli quindi quindi anche se serve insultarmi per farvi stare un po' più tranquilli fatelo io non chiedo di meglio voglio soltanto farvi sorridere raga io vi giuro non sono frasi fatte dio santo stoperato madonna adesso entro nel gioco ti sfilo dal calderone e ti lancio via quindi io vi posso garantire che voglio soltanto farvi stare tranquilli io capisco durante una giornata ma sapete quante cose succedono per poco eh magari a scuola avete preso un brutto voto o magari un vostro amico vi ha fatto sclerare male avete litigato con ma qualsiasi cosa quindi uno ci sta magari entra su youtube e dice guarda Fancy io apprezzo quello che fai però oggi ti voglio insultare perché così mi sfogo ma ti apprezzo eh va bene invece poi ci sono quelli che cos'è che succede ragazzi io l'ho detto anche l'altra volta ed è la pura verità non sanno neanche chi io sia finisco in tendenza e dicono ma chi è questo idiota dislike insulto e basta poi perché poi finisce là però capito la tendenza è una cosa fighissima ovviamente ma è un'arma a doppio taglio perché ti porta persone in più sicuramente ma persone che non ti conoscono e probabilmente all'inizio vedono vedono questa faccia e dicono questo no in tendenza lui no eh e quindi insultano lasciano dislike io infatti tutti i miei video che finiscono in tendenza sono quelli con più dislike arrivano anche a 700 dislike con le stesse visualizzazioni di un altro che non è finito in tendenza ma che ha molti meno dislike raga molte persone aprono il video non lo guardano nemmeno lasciano dislike non gliene frega niente di quello che sto per fare che sto per dire vogliono solo lasciare dislike perché sono finito in tendenza o perché proprio gli sto antipatico e va bene ragazzi io l'ho già detto non posso essere simpatico a tutti a tutti a tutti è normale io ad esempio vediamo non so se c'è mai stato un periodo in cui c'era qualche youtuber in cui magari non so non mi stava simpatico comunque non mi stava particolarmente simpatico no io sono su youtube in realtà da tanti anni ma guardavo i video degli altri ma non ho mai insultato nessuno non mi sono mai messo lì a scrivere commenti stupidi tanto sapevo già che non sarebbe servito a nulla per cui no in realtà poi raga un'altra cosa quando uno youtuber non vi sta simpatico cioè ignoratelo ma ignorate io anche in passato magari c'è stato qualcuno che mi piaceva un pochino meno e non lo guardavo ma che sono masochista non mi piace uno e lo guardo ma non ha senso ragazzi se non mi piace qualcuno non guarda basta andiamo sul barbecue perché se no veramente sclero come un fagiano allora questa parte ragazzi ma tanto lo sapete è di un'infamagine perché sotto c'è uno spazio così dove tu ti puoi ancora salvare ma se vai anche solo tre centimetri più in là baratro più totale torni all'inizio ok ok dai ti prego ti prego dai pelato io sto muovendo il mouse però ti vuoi muovere? cosa facciamo? oh mamma mia ragazzi sto sudando sto sudando se cado qua torna all'inizio madonna slancio no madonna ragazzi tachicardia poi ti scrivono anche pericolo di caduta grazie grazie per prendermi anche in giro non serviva scusate ragazzi ho dovuto di nuovo mettere un attimo in pausa perché ho visto una cosa zio crucco ha voluto donarmi 109 euro zio crucco cosa? adesso tu riprendi i tuoi soldi ragazzi cosa? no no 109 euro zio crucco no ragazzi no dai così no ragazzi no zio crucco no 109 euro no ragazzi ma io non so cosa devo dire come 109 euro no ragazzi no no ragazzi zio crucco ma no zio crucco adesso continuerò tutta la live così zio crucco no ma io ti amo ma no no ragazzi no ma no ragazzi grazie mille veramente grazie di cuore però 109 non potevi dare un euro volevi fare la donazione ok un euro un euro e 50 non 109 euro ma come 109 no marco salvatori io devo fare i compiti vai tranquillo marco non ti preoccupare non ti preoccupare ho detto vai tranquillo giulia canale ma te li meriti giulia io vi ringrazio con tutto il cuore però non merito 109 euro cosa? sto giocando come un idiota con un pelato che va in giro con una pentola con dentro dell'acqua no 109 euro no eh ragazzi zio crucco grazie di cuore grazie di cuore io ti amo però no basta raga basta no veramente no joe dad ti adoro coglione col cuore grazie mille ecco perché non scrivete questi commenti mi fanno veramente fare una risata so che siete ironici e io vi ringrazio perché dovete insultare stkmanu devo andare vai tranquilla davvero vai tranquillissima tanto noi siamo qua te li meriti no ragazzi no non è vero io lo faccio perché mi piace vedervi sorridere perché mi piace sapere che in qualche modo io riesco a farvi divertire non merito questi no ragazzi vi prego dai no rick703 salutami sei il mio youtuber preferito ciao rick ti ringrazio tantissimo mi fa tanto piacere però ragazzi no veramente dai annarosa belmonte ciao annarosa vediamo poi abbiamo ciao andrea grazie mille ciao annanna eh lo so ambra uno ti ha donato 100 eh lo so infatti sto dicendo proprio cosa no namma mia zio crucco no eh basta ragazzi alessio alessio 07 sei il migliore anche se sei scarso lo apprezzo tantissimo e sono il primo a dire che sono proprio un proprio brutto su sto gioco faccio proprio schifo lo so ragazzi lo so erlind shew se ho detto bene il nome robe ciao erlind vediamo eeeh crea un gruppo discord hmm si potrebbe starci sapete vediamo potrebbe potrebbe essere ogni tanto parliamo un pochino ci può stare sei il mio coglione preferito vedete io io per questo vi ringrazio perché molti di voi riescono a cogliere l'ironia delle cose e riescono a scherciare scherciare comunque non so parlare riescono a scherza e dopo aver letto 109 è ovvio che riescono a scherzarci sopra eh ce l'ho fatta è questo che è bello di youtube è il voler scherzare insieme ragazzi voi non riuscite a cogliere questo lo scherzo voi pensate voi vedete tutto alcuni di voi anzi o bianco o nero cioè vabbè vabbè comunque tornando al gioco siamo a pericolo di caduta madonna io lo so già che adesso dovrò urlare perché tanto cado ragazzi allora lo sappiamo tutti che adesso cadrò lo sappiamo tutti devo fare un movimento brutto devo fare così alza il martellaccio bravo e tirarmi su ragazzi pregate per me perché adesso cadrò e io lo so già 1 2 3 che cosa ho fatto robe raga ma il miracolo proprio robe mamma mia ragazzi come ci siamo salvati ma perché ho parlato perché ho parlato che adesso lui l'ha sentito il pelato ha sentito tutto e adesso guardate cosa cosa ti sei salvato ci penso io adesso mi scaravento giù con una violenza inaudita guardate secondo me questo pezzo è molto più difficile abbiamo anche la cuccia di sam tra l'altro l'ho vista adesso ragazzi mi ha salvato un pixel 1 proprio era lì piccolino mi ha salvato il pixel cosa avevo detto il pelato sente il pelato sente il pelato sente guarda dove siamo to guarda no spacco tutto spacco qualcosa spacco qualcosa altro che intelligenza artificiale ma come l'hanno creato sto gioco chi perché con cui ragazzi ma io lo sapevo madonna quanto lo sapevo no ragazzi io adesso io io vorrei proprio fare del male a questo pelato ma avete visto in quanti secondi siamo tornati all'inizio io quanto ci ho messo quanto ad arrivare lì quanto eh un'ora quanto ci avevo messo a tornare qua due secondi no ma ragazzi io tanto ve l'ho detto ormai dopo aver registrato sette video per me è tutto normale è tutto nella norma è tutto nella norma ma io non ho la forza nel mio corpo raga il pelato è un coglione hai ragione ma per favore ma non si può fare ma non si può fare giustamente non ero ancora sceso abbastanza scendiamo ancora proprio nelle profondità degli inferi ma qua c'è l'acqua dai annegati ficcaci la testa dentro al calderone rimani in apnea per un quarto d'ora vediamo se torni su dai raga mi è venuto mal di testa io quando guardo sto gioco ma mi sale il crimine proprio quello brutto ma quello cattivo ma 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 no ma io prima o poi vorrò incontrare il creatore di questo gioco per dir scusi una curiosità ma lei no perché si sente meglio dopo aver creato questo schifo e tra l'altro so che non è l'unico gioco che ha creato in questo modo ha creato in passato altri giochi di questo tipo come ad esempio il tizio che corre l'ha fatto lui oppure non so se ve lo ricordate l'unicorno dovevi cercare di farlo andare avanti impossibile come questo impossibile lui è proprio l'inventore di queste porcate no ed è fiero di questo è fiero e dice si io arrivo la sera a casa contento di aver creato questo schifo questo ammasso proprio brutto e vabbè e vabbè e che ci dobbiamo fare ragazzi e che ci dobbiamo fare eh no che fan guarda 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 ho spaccato tutto porco schifo poi poi ovviamente faccio anche danni cose che non c'entrano nulla è il mouse il mouse questo mouse è volato via eh vabbè ragazzi mamma mia ragazzi mamma mia sto gioco è proprio questo gioco per me è stato creato dal diavolo in persona tu ti puoi impegnar quanto ti par ma tanto lo sai che lui troverà il modo di farti sclerare non c'entrava nulla sbagliatissima ma chi se ne frega tanto ormai sto sclerando va va guarda guarda sto sclerando come un budino eh sì questo gioco è fatto con il deretano non diciamo altre parole eh dai ma guarda ma poi guarda guarda cioè gira vuoto ma cosa fai ma cosa stai avvitando cioè io faccio così no però a volte lo fai guarda guarda a caso allora io ragazzi penso che questo gioco non abbia senso di esistere perché non lo tolgono dal mercato perché raga mi sa che si è incriccato il mouse perché ma cosa sta facendo ma cosa sto guardando della mia vita adesso io torno indietro facciamo che torno indietro facciamo che andiamo dalla parte opposta magari effettivamente riusciamo a fare qualcosa no perché non si può non si può manco fare quello qua fermo così tutto il giorno sto a fare così questo questo è il gioco questo è il gioco perché tanto questo posso fare uno prova ad andare avanti un pochino di progresso riesce a farlo sì per poi quando lui deciderà di buttarsi di nuovo giù ecco e lì non ci sarà più il progresso lì dovrei tornare all'inizio vuoi o non vuoi lui decide decide al posto tuo ha fatto una scuola per farti sclerare guarda ma io non dico niente non voglio dire niente non è più le forze per dire qualcosa ecco bravo spara via il caffè sparati a via raga a caso raga a caso raga a caso si è staccato il pezzo del mouse giustamente non ris vabbè oggi devo sclerare ho capito non sta rientrando neanche lo sportellino eh dai andiamo avanti così che gioco di me ma ma eh allora dire gioco di me ma è proprio un complimento questo gioco è come scivolare su una pozzanghera fatta di pipì immensa e tu dici oh son finito di faccia proprio dentro la pozzanghera colma capi questo è il gioco è questo una pozzanghera di pipì esterco equino anche no no non si può fare io adesso scarico i trucchi ragazzi ve lo giuro sono a un passo da scaricare i trucchi guarda 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 io adesso scarico i trucchi e vediamo un po' magari fallisco anche in quel modo eh raga vi prego voi siete veramente riusciti a finire questo gioco ma come avete fatto ma qual è il vostro segreto insegnatemelo vi prego ma guarda che schifo guarda guarda mouse guardami eh no si è staccata la pila non ho più le forze tra l'altro mi avete anche detto che Favij è riuscito a finire questo gioco ma come Favij come hai fatto sei un fenomeno sei un mostro sei una macchina com'è possibile io sono qui davanti a questo fottuto gioco da mesi e sono ancora la casetta sono ancora la casetta sono ancora la casetta ragazzi non mi sto muovendo di una dai stiamo calmi dai forza sali sali oh io no raga mi gira la testa mi gira la testa mo cado per terra di di faccia contro l'armadio non fa per me questo gioco è proprio è proprio uno schifo uno schifo brutto ma di quegli schifi brutti proprio che dici perché sto giocando io non lo so perché sto giocando eh perché non lo so effettivamente non ha senso giocare a questo gioco però lo giochi lo stesso perché dici io voglio farcela non può vincere un pelato dentro a un vaso da notte non può quindi stai lì ti impegni ci provi ce la fai no non ce la fai perché lui tanto come vi ho già detto ha una vita propria decine lui quando puoi farcela e quando no ok ti piace la nutella Gabriella mamma mia voi non potete capire io andrei avanti a nutella e basta ma probabilmente durerei una settimana poi esplodo però si è buonissima la nutella è devastante dai facciamo questo pezzo subito subito magari non subito però facciamolo che dici eh ti conviene fare una pausa hai ragione tra l'altro sono quasi le 6 ma io raga voglio andare un pochino avanti non è possibile adesso mi fermo e leggo un pochino la chat tranquilli ah lì sì sali piano madonna vai non così piano bravo così appoggiati bravissimo gli devi fare i complimenti allora lui com'è allora ok ti dice siamo calmi cerchiamo di trovare una soluzione insieme ma se mi insulti è ovvio che io mi lancio giù benissimo bravo pelatone mio sei veramente un grande ok adesso ok facciamo la pausa perché già si stava buttando via allora ciao denise siciliano ciao manu bomber 360 ciao daniele attienza eeeh poi abbiamo ciao viola barbieri ciao morgana holmes ciao paolo guarnieri forse ti avevo già salutato non mi ricordo comunque ciao paolo eeeh ciao ho perso ciao salvatore garofalo anche te forse ti ho già salutato non lo so poi abbiamo alexandra affi ciao alexandra ciao panda corno poi ciao ciao armando palmiere ciao luca ferrari ciao alessia pepe ciao alessandro masella ciao gaia sagra il pelato sembra mastolindo avete ragione è lui e tanto si è sicuramente ispirato da lui per forza ciao giuseppe riccio ciao davide giordano ciao giovanna palladino eeeh ciao giovanni selle ciao ghost oddio vgf 2006 eeeh oh mio dio ciao volpo pf ho già capito che adesso questa cosa coglione sarà proprio negli annali del canale sto leggendo un sacco spero che molti siano ironi ci siano tutti eh raga mi raccomando poi abbiamo ciao sky skyler killer poi domenico a uccello perché lo fai se sai di sclerare perché so che vi fa divertire ragazzi semplicemente quindi preferisco sclerare io e divertirmi comunque con voi perché passiamo un po' di tempo e farvi ridere piuttosto che non farlo e far finta che questo gioco non esista non importa se sclero dai siamo qua per divertirci ma chi ci frega chi ci frega ma come parlo ciao lo ciao lo è il nuovo dei sette nani ciao paolo terlizzi eeeh ciao gabriele meloni ciao consolina vera leonessa ciao viola barbieri ciao efram guarda no efram guarda scusami shinsama secondo te esiste un gioco peggiore di questo? no ragazzi no questa è l'incarnazione di satana non può esistere il gioco peggiore non può non ci credo eeeh mi saluti mi saluti mi saluti raga troppi mi saluti non non ce la faccio non riesco a salutare tutti ciao samuele dongia ciao emanuele aceto ciao pietro vaudano ciao come antempless18 probabilmente ho sbagliato una pronuncia sicuro la mia ignoranza è immensa ciao francesco giordani eeeh ciao luca venturelli ciao alessandro steclov ciao massimiliano villanova raga fatemi qualche domanda così rispondo anche a qualche vostra domanda poi torniamo un attimo su getting over it comunque sulle 6 tra poco direi di finire la live di chiudere però fatemi qualche domanda quello che volete così rispondo devo andare scu non ti preoccupare vai tranquillissimo se dovete andare raga andate non ci sono problemi non ci sono problemi fatemi domande se vi va se avete voglia ciao killer cledi ciao antonio ronza devo andare a fare la spesa anche tu vai tranquillo non ti preoccupare fatemi qualche domanda se vi va madonna ragazzi mi fanno male gli occhi mi fa male il cervello mi fa male tutto sto gioco proprio mamma mia che brutta roba nutella e cookie ita perché hai voluto aprire un canale youtube allora ragazzi la risposta è molto semplice io ho sempre e questa cosa veramente ragazzi non sto scherzando ho sempre amato far ridere gli altri sempre all'elementare addirittura io ero considerato il comico no tra virgolette della situazione e amavo vedere i sorrisi ok adesso io so veramente sono sincero ricordo che in classe durante le giornate capitava che ci sia che c'erano magari delle giornate un po' più pesanti vedevo i miei amici sempre all'elementare già figuriamoci che di solito all'elementare non si fa nulla che erano magari preoccupati per una verifica o per un'interrogazione o anche le medie no e allora subentravo io cercavo di non lo so rendere l'ambiente un pochino meno pesante e più delle volte ci riuscivo e questo mi rendeva felice quindi ho visto in youtube una possibilità di fare questa cosa però più in grande perché cavolo raga eh ci sono adesso siamo oltre 600.000 ciao crazy gamer comunque dicevo youtube ti dà la possibilità di farlo più in grande tutto questo quindi io semplicemente ho visto youtube una possibilità di far ridere tante persone tutto qua e spero di riuscirci io adesso non so se ci riesco sempre però di sicuro so che molti di voi riescono a sorridere grazie a me e questo cioè è proprio fantastico per me è proprio bellissimo è la cosa più bella è una gioia ciao francesca spadaro questo gioco è meglio o peggio di golf in goverit eh forse questo è peggio ma entrambi fanno schifo nel senso sono tutte e due giochi improponibili però forse questo getting in goverit è un po' più difficile forse ma sì in realtà si è più difficile perché qua devi proprio stare lì col mouse lì basta che clicchi non lo so entrambi fanno schifo comunque poi e altri bonny sei una pera? sì non si vede la mattina sono una pera la sera diventa una mela così Maurizio Alessio hai mai picchiato qualcuno? allora una volta quello non allora picchiare è un parolone no in realtà sì picchiare praticamente è successo che per difendere un mio amico ho picchiato ho dato un pugno ad un altro ragazzo che stava aggredendo questo mio amico e quindi per difenderlo io ho dato un pugno il problema è che io ho fatto uscire un po' di sangue dal naso no? e mi è dispiaciuto allora io la violenza la odio raga è inutile non serve a niente sono dell'idea che le parole fanno anche più male se riesci a dirle come si deve le mani fanno solo danni ragazzi si rischia sempre di fare del male all'altra persona e non ha senso io quel giorno infatti mi son pentito poi abbiamo chiarito con questo ragazzo io ho chiesto scusa perché non era quello il mio intento volevo sì difendere il mio amico ma non facendo del male a un'altra persona ma quella è stata l'unica occasione basta io certo per difendermi ovvio però non partirà mai da me per primo di sicuro ciao Luca Todaro ciao Gianmarco Palladino Palladino l'ho già risentito no? forse me lo sto immaginando ciao Skyler 2011 Carlotta Galante ti sei mai arrabbiato tanto da pensare di scappare di casa? no arrabbiato? vabbè quello è normale tutti ci arrabbiamo chi più chi meno ma no scappare no 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 in che regione vivi? ho perso il nome oddio mamma ho perso comunque io sono di Torino quindi Piemonte e sì sono di Torino comunque raga il Romics non lo so raga forse sì però vi farò sapere meglio non lo so con certezza probabilmente sì ma poi vi dico bene cosa sto facendo non lo so vediamo 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 Romi Romi collaborerai mai con altri youtuber allora io non dico che questa sia una cosa vera ma sono abbastanza convinto che gli altri youtuber intendo quelli grossi big un pochino mi odino non mi non mi chiedete il perché probabilmente non è neanche così probabilmente non sanno neanche chi io sia ci mancherebbe ma non so perché ho una sensazione tipo che gli altri mi vedano come un idiota non so come spiegarmi che è vero sono un idiota però non mi vedano bene non mi chiedete il perché probabilmente è soltanto frutto della mia immaginazione però buh per cui ma magari succede una collaborazione in futuro però non ne ho idea fosse per me magari anche sì non ci sono problemi nicolas gambale che mi sono perso ti sei perso una schelerata dopo l'altra su sto gioco inutile che sto pelato che lo sto dando con tutto me stesso quindi quello io che vado un pochino su poi torno giù spacco le cuffie poi ritorno riprovo e ritorno giù questo è essenzialmente da due ore per tornare al punto di partenza allora ragazzi rispondo una volta per tutte a questa domanda matti gaming ma non troppo mi ha chiesto e non è l'unico ok allora ripeto questa è l'ultima volta che parlerò di questa cosa che vi sto per dire poi vi prego raga basta mi hanno di nuovo chiesto e lo sto leggendo un bel po' in chat ma che capelli cosa sta succedendo nella mia vita il tricheco allora ragazzi è passato un anno ormai non c'è è finita da più di un anno lei è andata per la sua strada io per la mia sto bene lei probabilmente sta bene non ne ho idea quindi raga basta chiedermelo io capisco che molti di voi magari si erano anche affezionati avevamo fatto di vivere insieme però è passato un anno capite quindi boh io però vi posso garantire che sto da dio ma veramente sto da benissimo ma proprio tanto vi giuro adesso non è per scherzare sto proprio bene per cui state tranquilli raga state tranquillissimi io cioè ormai è passato un anno e voglio dire basta voglio dire fosse passato un mese allora diciamo che la domanda ancora ci poteva stare ancora si poteva parlare però dopo un anno boh no ma tranquilli no raga vabbè non dovete chiedere scusa ma no raga raga non mi fa stare male parlare di questo io capisco che voi vogliate chiarimenti ora che ve li ho dati nel senso non c'è più niente da un anno però basta non pensateci più neanche voi stiamo tranquilli noi boh è andata come è andata lei è andata per la sua strada e io per la mia punto è andata così eh bug panda grazie per tutto quello che stai facendo coglione grazie ragazzi grazie mille ah comunque allora questo forse non ve l'avevo ancora neanche mai detto no probabilmente si ma dopo quello che era successo poi avevo fatto il video ricordate appunto un anno fa e io avevo ricevuto un sacco di messaggi mi avete dato davvero una mano ragazzi importante mi avete aiutato tantissimo e quindi io vi ringrazio anche per questo voi mi siete stati vicino in una maniera no cosa vorremmo dire questo una maniera incredibile vuol dire veramente mi avete dato una mano allora sono sincero probabilmente l'avrei vissuta molto 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 peggio se non ci fosse state voi comunque il canale se non ci fosse state tutte voi con questi commenti incredibili che mi avete eh tirato proprio sul morale non so come spiegarvi mi avete dato una forza incredibile se non ci fosse stato questo magari l'avrei vissuta in maniera diversa questo si però ora vi posso garantire che sto non bene ma tipo di più è un livello superiore e devo stare bene se hai fidanzato eh eh chi lo sa ragazzi chi lo sa se fossi fidanzato magari un giorno potreste vedere qualcosa basta no non dico nulla non dico nulla perché adesso raga eh Mario Rossi io adesso ho detto il tuo nome no se non mi saluti metto dislike io non dirò nulla ora ho riletto il tuo commento riascoltandolo capisci che è stupido io spero che tu l'abbia capito se non l'hai capito preoccupati perché dire una cosa del genere non ha senso ma fai tu comunque io ti saluto ma non perché ho paura del tuo dislike ma perché semplicemente mi piace salutare le persone che mi guardano ma non devi minacciare dicendo ti metto dislike come se avessi un'arma in mano è un non mi piace che non a me dispiace anche dirvi queste cose perché magari c'è chi ci crede che il dislike conta qualcosa ma non serve a niente quindi io ti saluto perché mi fa piacere salutare ma non perché oh mio dio il dislike cioè raga vabbè comunque a volte dico cose che mi sembra assurdo di dover dire però poi ci sta perché dico ok magari c'è qualcuno che effettivamente lo fa senza neanche pensarci quindi magari posso provare a dire la mia cercare di fargli capire che facendo così non ha senso beh raga che vi devo dire insultate ciao Dita Maraschi ciao DBS Black Power ciao Leila Ballerita eh Paul Dex Beats che musica ascolti mi saluti coglione di Melda raga però adesso basta dai io capisco che lo state dicendo per ironizzare però basta allora che musica ascolto Selena Gomez raga mamma mia mamma mia che brava che è mi piace proprio mi piace quindi ascolto principalmente lei però in realtà anche un po' di tecno a volte cos'è questo movimento questo per me dovrebbe essere tecno capito questa è la tecno sembra più io nei puffi san così comunque un po' quello che capita non sono molto schizzinoso però principalmente Selena Gomez perché mi piacciono le sue canzoni comunque allora Maria Pia Piperis tanto lo so che non leggerai questo commento ti volevo chiedere se potevi fare un live di 24 ore tipo il sabato così il giorno dopo ragazzi 24 ore sono tantini sono tantine anzi eh non lo so 24 ore un giorno intero in live raga potrebbe essere tipo lo speciale 600.000 iscritti però no perché 24 ore magari si annoia anche uno vediamo dai non dico di no ma non dico neanche di sì vediamo dai non dico nulla potrebbe succedere ma comunque vi faccio sapere tutto ragazzi tranquilli che vi aggiorno Lorena Tomasi ti adoro sei stra simpatico grazie mille davvero Rocket Challenge sei in concorrenza con Favij per Getting Over It eh sì eh eh ma mi avete detto che lui è riuscito a finirlo sto gioco è un fenomeno e che cos'è no come ma come si fa a finirlo io poi dopo non oso immaginare che cosa ci sia non ho voluto vedere video no no non posso immaginare se all'inizio è così dopo cosa c'è dopo c'è devi battere un dinosauro col martello gli devi dare un colpo in testa ciao Ruben Giose dove vorreste andare in vacanza ho perso il nome dov'è dov'è eccolo ciao Mattia Sabatino intanto io probabilmente tra non molto e non sto scherzando adesso vi sto per dire una cosa che voi adesso direte ma andrò ad Hogwarts e già qua ci sarà della confusione sì ma perché a sto punto visto che stiamo parlando oh no allora vabbè dicevo devo andare ad Hogwarts c'è proprio al castello dove hanno girato il film che se non sbaglio è in Scozia quindi mi sa che tra non molto andrò ad Hogwarts andrò a Diagon Alley prenderò il treno del binario 9 3 quarti perché voglio sedermi dove hanno girato la scena Harry Ron Hermione così sto tipo un'ora fermo immobile così non guardo neanche attorno non me ne frega nulla voglio solo stare seduto così però lo farò prima o poi lo farò Promex Promex Allora adesso andiamo ancora un pochino avanti i like a boss torneranno non subito però ma torneranno promesso come è tornata ieri la prova a non ridere tra l'altro l'avete vista ragazzi vi ha fatto ridere prova a non ridere vi ha fatto ridere no vabbè adesso a partì scherzi l'avete visto il video io mi stavo ammazzando soprattutto nella parte della giostra quelle raga mi fanno morire proprio male io non so perché proprio la gente che fa sti versi a caldo mi fa morire ciao Mario Zegali o Zegali mi chiamo Danny ciao Danny ciao Anita Pezzella sei fidanzato a questa domanda Eleonora vadruccio ho già tra virgolette risposto dicendovi chi lo sa I don't know I don't know vediamo vediamo molti l'hanno visto ok perfetto dai vi è piaciuto? vi ha divertito vedermi sputacchiare dappertutto raga qua vi giuro era allagata la scrivania un disastro poi io genio so che devo fare un video del genere e non mi porto uno straccetto qualcosa tutto bagnato il microfono uno schifo va va sono proprio un genio del male quando ritorna provano a spaventarti mia 88 allora presto promesso prestissimo vediamo se già questa settimana che dite Lorena Tomasi quale attore ti piacerebbe conoscere? beh a questo punto ti dico Selena Gomez perché lei oltre ad essere una cantante è anche un'attrice per cui sempre Selena Gomez no raga Selena Gomez è forever forever poi immaginatevi la nostra conversazione tra me e Selena Gomez I my name is Mario and the you is a perfect girl amazing questa sarebbe la conversazione lei what sorry you stupid vero ma comunque il mio inglese lo dovrò migliorare perché raga bigio è raccapricciante raccapricciante dai giochiamo ancora un pochino cadiamo di nuovo tanto per cambiare e poi direi che per oggi abbiamo fatto sono le 6 e 20 per cui diciamo che tra poco possiamo chiudere per le 6 e mezza dai sceleriamo ancora un pochino su questo gioco che tanto no voglio dire ok dai ma vuoi andare avanti ma perché oggi fai così ma di solito fai un pochino meno schifo e che cos'è allora dai ok con calma bravo eccoci ragazzi ehi no aggrappati prima che cadi aggrappati bravissimo ragazzi vedete che con la calma il pelato lo sente percepisce la tua tranquillità e lui si calma e dice ok adesso ti do una mano e si può andare avanti dai momento catartico sentite con quali eh cerchiamo di non cadere adesso ti prego adesso devi no raga sono troppo lontano uuuu dai appoggiati bravo ok pensavo già al disastro ok dai allora ripassiamo dal barbecue perché abbiamo capito che per le scale non fa per me già questo gioco è difficile figurati passare per le scale non si può fare sono troppo alte ci ho provato per tipo un'ora non si può fare dai tirati qua eccoci vabbè ragazzi the king of the golfing e non golfing getting over it qua c'è il bambino bimbo no quando vedo il bambino io probabilmente mi spavento perché anche l'altra volta siamo arrivati fino a qua ho visto il bambino e sono caduto però la differenza l'altra volta sono proprio caduto e sono tornato all'inizio oggi mi sono fermato un pochino prima dai l'ombrellone no l'ombrellone no dai no non scivolare non scivolare no raga non ha proprio appiglio vai dai 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 no no vi giuro mi sta girando il cervello proprio no la testa il cervello dai così mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi per giocare a questo gioco bisogna laurearsi prima ok vai no no non dico nulla rimango in silenzio perché se parlo cado dai ti prego e vai un pochino avanti ok no si no no basta ragazzi per quanto mi riguarda questo gioco non esiste più tante cari cose pelato inutile esplodi male tu e quel martello di martello di tor quel martello di tor ho le orecchie morte mamma mia che bello giocare a getting over eh mi massaggio le orecchie ecco tra l'altro guardate che cos'è che succede questi pezzi neri sono che probabilmente ho ancora sulle orecchie sono in realtà i pezzi delle cuffie che si stanno staccando guardate che roba si stanno smaciullando tutte le cuffie quindi quando le metto perdo pezzi e ho le orecchie nere eh le ho lanciate troppe volte ragazzi sono disintegrate ma è normale ma cosa pretendo eh va 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 calimero sembro va bene chiudi sto gioco addio tante care cose fantastico esplodi ciao adesso torno a essere giganterrimo eh togliamo allora eccoci qua togli la maschera bene non ho più pezzi neri ok eh sì eh sì ragazzi anche oggi è andata divinamente direi sì bene ok ragazzi allora leggo gli ultimi messaggi sono arrivate altre donazioni dopo 109 euro altre donazioni seri poi ci salutiamo che dite raga dai allora vediamo un po' abbiamo dragonfire 955 da un euro grazie mille dragonfire poi c'è raffaella balzo un euro grazie mille raffaella poi c'è christian pacurar pacurar perdona mi si è sbagliato la pronuncia 5 euro e 49 grazie mille christian grazie mille poi c'è daniela bonanno 2 euro te li meriti grazie mille daniela però no non è vero però ti ringrazio davvero per il supporto poi abbiamo xdarky08 2 euro se è un grande bellissimo il discorso di prima no ma io veramente ragazzi intanto grazie mille le cose che mi sentite dire sono cose che penso realmente non le dico tanto per io voglio soltanto che su youtube allora su youtube non si può ma sul mio canale ci sia un po' di tranquillità proprio in generale voglio che quando voi mi mettete a guardare il mio video siate tranquilli per quello mi vedete fare così tanto il deficiente perché so che in qualche modo magari riesco a divertire e quindi voglio proprio dare il meglio facendo l'idiota se serve ma lo faccio volentieri perché se rende felice gli altri rende felice anche me quindi poi abbiamo bob il king un euro grazie mille bob no bellissimo poi c'è a yeye brazorf 2 euro grazie mille solo per me grazie mille a yeye brazorf cioè raga questa è storia eh chi non sa chi è a yeye brazorf no aldo giovanni e giacomo forever a yeye brazorf bellissimo poi c'è flavio programmer 01 2 euro grazie mille flavio ciao se mi hai preferito vorrei diventare come te no ti prego flavio non puoi diventare così dai devi essere migliore ma che fa eh no no comunque ti ringrazio veramente è un onore per me poi c'è dgcr detersivo erlezzo youtube radicetti 1 euro grazie mille eh detersivo erlezzo poi c'è fede 148 1 euro grazie mille fede elite paolino 90 1 euro grazie mille paolino poi c'è maria longheu 1 euro grazie mille maria bombastar 95 2 euro grazie davvero tanto kevin livio 2 euro grazie mille kevio lo apprezzo tanto e poi c'è il sisona sisonia il sisonia 2 euro ti voglio bene ti mando un bacio grazie mille boh poi saluto ancora qualcuno e poi ci salutiamo eh raga che dite secondo me oggi ci siamo abbiamo fatto cos'è più di due ore di live dai ci sta ciao sabrina segalini ciao ti adoro grazie mille grazie di cuore ciao asiafezza ciao foxetto eeeh chiara bottone pizza o nutella eeeh vabbè ma uno è salato e uno è dolce ma se dicessi pizza con sopra la nutella vale vale lo stesso vabbè no pizza perché puoi vivere solo di pizza mentre non puoi vivere solo di nutella purtroppo se no madonna raga proprio i vasetti così interi buoni entrambi però la pizza è la pizza dai eeeh darkreal avakin ti seguo da poco come ti chiami su ista come su youtube thanksy proprio scritto identico stesso senza trattini senza thanksy normalissimo ciao marco picciol piccioloni giusto marco piccioloni ciao marco poi ciao medio prestigiacomo eeeh aspettate vediamo ciao laura ribeca ciao geroon luiz ciao tony barbuto cosa tifo nessuna squadra raga perché semplicemente preferisco giocare a calcio piuttosto che guardare le partite non mi interessa più di tanto proprio anzi non mi interessa proprio quindi non tifo nessuna squadra dico juve così a caso ma in realtà non me ne frega nulla ciao asiatutorial ciao lil momo ciao lara marchetti che però si chiama giada ciao giada eeeh ah tra l'altro raga molto probabilmente adesso stacco la live e poi vado a vedere per comprare una nuova videocamera perché questa qua ormai non è più il massimo non ha una risoluzione fantastica quindi provo a vedere se riesco a trovare qualche non lo so offerta non lo so una videocamera comunque che funzioni come si deve che registri bene quindi probabilmente adesso vado e vi farò sapere vi aggiorno quindi mi raccomando seguitemi su instagram perché metterò lì delle storie dove vi farò sapere se ho trovato qualcosa se ho preso qualcosa se in caso ve la farò vedere per cui instagram fengsi raga mi raccomando andatemi a seguire fengsi 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 seguitemi raga poi ciao è leonora diafani ma si chiama in realtà matilde ciao matilde scusate se faccio versi no raga tct volt basta per oggi direi che basta abbiamo fatto due ore e un quarto di live e quindi direi che ci siamo golfing si ancora ce l'ho sto golfing getting over it basta raga non fa per me sono di nuovo caduto all'inni non c'ho voi quel gioco è inutile dai poi dai saluto ancora dieci persone poi boh daniel trevisanne come ti senti dopo due ore di getting over it è come se avessi fatto una maratona devastato raga devastato no questo gioco è il male non giocateci se potete non giocateci evitate raga fidatevi risparmiate una sofferenza unica non giocateci dai saluto ancora dieci persone a partire da adesso poi boh franci gamer 2008 voleva scrivere probabilmente sei gay e ha scritto sei yay e vabbè no comunque no e se l'hai scritto con l'intento del tipo ma sei proprio gay come per insultarmi eh è proprio triste da parte tua nel 2019 quasi 2020 dire ancora a qualcuno sei gay come un insulto raga crescete un po' per favore poi vabbè vi fa piacere insultare le persone dicendo che gay fatelo tanto raga nella vita perché adesso voi siete abituati magari o comunque alcuni di voi sono abituati a questo a youtube a scrivere queste cagatine e non subire nulla ok che non succede niente ma nella vita non funziona così la vita non è youtube quando poi continuerete a fare anzi ad avere questi atteggiamenti con le persone vere credetemi che non andrà tanto bene quindi fatelo ora magari che potete ma poi crescete e smettetela perché poi un giorno se no mi sa che non vi troverete molto bene però questo è un consiglio fate come volete io l'ho imparato a mie spese anche io sono stato un ragazzino anch'io ho avuto tredici anni e anch'io pensavo di poter fare e dire quello che volevo ma crescendo mi sono accorto che non funziona per niente così ma proprio no per cui io capisco che ora voi possiate pensare che vi sia tutto dovuto che possiate fare e dire quello che vi va senza nessun tipo di problema ma credetemi che non sarà così un giorno daniel salvador ciao non ho fatto latino per guardarti sclerare no daniel bisogna fargli i compiti bisogna studiare bisogna no ti prego vabbè dai però almeno mi hai visto sclerare almeno ti sei fatto due risate dai eh ma latino è un casino eh io per fortuna non l'ho mai studiato me la sono risparmiata questa cosa cos'è che studio materie normalissime non ho mai fatto materie devastanti tipo appunto latino mai fatto meno male eh vediamo ciao Enea Salvador ciao Mario Cocca poi ciao Mari Calelio poi la chat è anche un po' più piccolina del solito quindi adesso leggere bene i nomi ragazzi ho gli occhi esplosi proprio mi stanno lacrimando poi ho tutti i fari le robe ale92at no bro sei rovinato non ho capito in che senso mi sono rovinato come un telefono non ho capito vabbè evil lord war robots live finita quasi adesso saluto le ultime persone e poi si dai comunque siamo stati più di quasi due ore e mezza in live ci sta ci sta ciao ciao Federico ignesti ciao Gabriele Andrea ciao Martina Ferrara ninja che scuola hai fatto io sono diplomato in grafica ho fatto il grafico pubblicitario e niente scuola normalissima una scuola che insegna sì qualcosa sicuramente però ad esempio delle cose che faccio adesso non ho imparato nulla a scuola di quello che faccio ora ho forse imparato un pochino a usare photoshop ma più che altro sono autodidatta nel senso ho imparato da solo facendo corsi e cose del genere però sì dai una scuola normalissima ciao Aurora Frangelli ciao Tinti Diego ciao Chris Manto grazie mille grazie per il supporto aspetta questo nome è un casino Giorgio Vakar mamma mia Vakarciuk Giorgio Vakarciuk l'avrò detto male in otto modi diversi ciao comunque Giorgia dirò Giorgia va bene questo è più facile vediamo eh saluto ancora cinque persone Laura Rebecca oddio mi hai salutata giuro sto tremando no Laura ti prego non per così poco Marco Marco SP sei scarso sc a r v s o lo so l'ho sempre detto e non voglio neanche essere forte non mi serve a nulla essere forte su getting over it mi dispiace se ti ha fatto stare male questa cosa ma non è la mia priorità essere bravo a un gioco poi raga adoro veramente baste ma non mi stancate dopo un po' mi vedete ma vi sembra che mi sto offendendo raga baste lasciate tipo io mi ricordo non molto tempo fa ma abbastanza è passato un bel po' di tempo ho visto un video di FabiJ dove diceva che ormai l'hating è morto nel senso ormai non va più di moda insultare quindi ormai ho visto che neanche vi caga più non so se adesso ci sia tra di voi qualcuno che odia FabiJ non lo so non mi interessa però il punto è che ha ragione ormai non ha più senso basta raga ma basta e che siamo nel 2012 che andava di moda insultare lo youtuber basta ah vediamo intanto like dislike tutto quanto che adesso un bel po' che non ho guardato vediamo un po' eh ho sbagliatissimo vediamo eh siamo a attenzione 11.710 like 189 dislike grazie ragazzi grazie mille vediamo se riusciamo ad arrivare a 15.000 non adesso sicuramente magari anche quando sarà finita la live continuate a spammarla ai vostri amici lasciate like mi raccomando e niente grazie ragazzi comunque abbiamo passato un po' di tempo insieme è sempre fantastico è sempre bellissimo passare un po' di tempo insieme a voi mi riuscite a rendere sempre felice non so come fate non so come fate avete un modo di tranquillizzarmi boh non lo so adesso stavo ricontrollando un attimo instagram mi raccomando andatemi a seguire comunque saluto ancora tre persone allora ciao liscoli gamer ciao aurora desideria bufalino e ciao viviana tomaselli no ti avevo già salutato o no vabbè ciao lulu girl ciao ciao joel santos marco sp era per farmi salutare aaa birbantello birbantello avete i trucchetti eh grandi ci sta ci sta comunque raga davvero pisellob che non è un pisello ma cosa sto dicendo ma come parlo nel senso pace amore cerchiamo di andare tutti d'accordo è facile è più facile di quanto pensiate è più facile andare tutti d'accordo piuttosto che eh andare tutti no che ci odiamo guerre brutte robe già in 070 cattiveria almeno qua sul canale no cerchiamo di stare tranquilli insieme morgan magli sei un coglione scherzo sei un fottutissimo grande genio che rallegra la giornata non solo a me ma anche a tutti quelli che ti seguono continua così morgan ti mando un bacio grazie mille sono stracontento di leggere queste cose ogni volta per me è fantastico credimi grazie mille grazie 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 allora vediamo intanto qua perché mi sa che sono arrivate altre donazioni ragazzi Kevin Livio ha donato altri 2 euro grazie mille Kevin grazie davvero e Francesco Papaleo ha donato un euro grazie di cuore Francesco volpo pf ma ci mancherebbe sono troppo felice sono stato salutato dal mio idolo ma è il minimo che io possa fare ragazzi salutare per me è una cosa che mi piace è una cosa cioè non so come spiegarvi molti mi dicono cavolo mi hai migliorato la giornata e sono contento dico cavolo riesco in qualche modo anche soltanto salutando è incredibile poi tra l'altro sto incontrando molti di voi in giro ultimamente che mi chiedono di fare una foto fantastico vi giuro ma ho saputo che c'è gente e non farò nomi cos'è così che per farsi la foto in giro chiedono soldi cosa? ma stai scherzando aspetta ho letto cos'è? ciao Alessio Guerra chiedono soldi per farsi la foto in strada se tu incontri qualcuno questa persona magari ti chiede i soldi se ti vuoi fare una foto ma stai scherzando? cioè quando io ho saputo sta cosa i brividi i brividi ma cosa stai dicendo? cioè la gente ti segue cioè ti sta dando il suo tempo e tu chiedi ancora soldi ma beh mamma mia no raga vi giuro questo mi fa mi manda in bestia io cioè sono io a dire facciamo una foto perché a volte vedono c'è la persona che si trova un po' in difficoltà perché magari non se l'aspetta e quindi non sa cosa dire dico vai facciamo una foto ma c'è gente che chiede i soldi ma stai scherzando ma levati no io non ci non ha senso per me chiedere soldi per fare una foto no non ha senso raga ciao Andrea di Dio ciao Alessio Clemente ciao Rita Arcello tra l'altro avevo detto saluto 10 persone boh già non mi salutate 20 ma sì raga ma sì comunque grazie mille Alessandro Moceri grazie veramente di cuore ciao Giorgia Campioli ciao Vanessa Bartolucci ciao Alexandra Maftean raga starò sbagliando tutti ma vabbè scusatemi facciamo magari la prossima domenica non so se facciamo la live probabilmente sì facciamo che la prossima domenica facciamo Geometry Dash giochiamo a Geometry Dash che dite dai così facciamo Getting Over It Geometry Dash magari di nuovo poi Golfing Over It tutti i giochi semplicissimi apriamo una rubrica sclerare in live che tanto voglio dire è una roba meravigliosa ciao Anna Zecca vediamo eh Mari 88 1791 sei un grande non devi mai lasciarti andare devi sempre lottare e vedrai che crescere no spero che crescerai ci sono aspetta aspetta Mary aspetta un secondo e vedrai che crescerai devi crederci ok e anche quando pensi di crollare rialzati migliora la giornata e far ridere tantissimo sei un grande grazie mille Mary perdonami ho avuto un attimo di confusione perché c'è la chat che è però sì assolutamente io lo dico sempre quando succede qualcosa nella nostra vita che magari ci butta giù non dobbiamo rimanere giù dobbiamo rialzarci più forti e dire alla vita adesso io ti aggiusto io ti faccio vedere che non mi butti giù è oh butta giù ma che cosa dai bisogna sempre rialzarsi a testa alta e vedrete che le cose fidatevi raga le cose si sistemano in qualche modo sempre solo purtroppo alla morte non c'è rimedio tutto il resto si può fare sempre qualcosa ma perché sono così filosofico oggi filosofico ah raga andate a lasciare like alla foto di oggi che ho messo che dite è andata a scrivere nei commenti hashtag live una cosa del genere vediamo se qualcuno l'ha fatto ci sono 233 commenti quindi sicuramente qualcuno c'è vediamo eh tra l'altro che ne pensate di questa cosa che adesso instagram non fa più vedere i like che ne pensate voi ciao black monster 86 ciao alessandra coricello ciao king panda che ne pensate voi di instagram che ha tolto la possibilità di vedere i like secondo me non è malissimo perché ci sono molte persone che facevano tutto per avere visibilità nel senso avere like avere la foto con tipo 20-30 mila like pensando di essere figo ne so una cosa del genere no ma secondo me non è quello la cosa che conta quindi ciao gaetano bonura quindi secondo me non è una cattivissima idea dai secondo me ci sta poi alla fine i like raga non sono così importanti dai è un numero non è la cosa che conta davvero c'è dragonferdi supremo brutto lo so purtroppo lo so dragonferdi lo so è una cosa che mi perseguita da anni ormai non so come risolvere questa cosa perché effettivamente sembro un bidet e che devo fare boh raga ciao elisa casarini ciao gaetano presta tanto vedo che arrivano messaggi dai ragazzi dai ecco i primi che mettono hashtag live sotto la foto dai ragazzi dai è così live 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 rifaccio vedere l'ultima volta profilo instagram questo qua ragazzi thanks scritto normalissimo tra l'altro quando è iniziata la live eravamo a 42.100 follower se non sbaglio adesso siamo già a 42.500 vuol dire che 400 di voi non mi seguivano mi raccomando seguitemi seguitemi ragazzi se già non lo fate e niente ah e tra l'altro ragazzi se non vi rispondo nei direct non è cattiveria è che siete tantissimi più di quanto possiate immaginare io adesso voglio provare a scorrere velocissimamente la chat per farvi vedere di che cosa parlo aspettate adesso inizierò a scorrere non si è bloccato in realtà deve aggiornare posso andare avanti così per tipo una settimana non sto scherzando ragazzi andiamo avanti questo tra l'altro due ore fa vuol dire che tutti questi sono arrivati soltanto nel giro di queste due ore e continuano due ore due ore pensate così per cosa un anno vuol dire che devi scendere 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 raga non posso rispondere a tutti perdonatemi ma mi arrivano davvero troppi messaggi ogni giorno cosa che mi fa piacere e se posso rispondo non vi dico che non dovete rispondere mandare un messaggio perché rinunciateci tanto non mi risponderò mai ogni tanto rispondo tipo mi metto lì a 30 persone ogni giorno mi metto lì e rispondo comunque a qualcuno per cui cercherò di rispondere a più persone possibili ve lo prometto poi però ho letto molte persone che mi insultavano perché non gli rispondevo fai schifo ti sei montato la testa non mi rispondi no è che semplicemente non ho abbastanza ore nella giornata per rispondere a tutti cioè non bastano 24 ore 24 ore rispondo forse al 10% di quei messaggi non sto scherzando raga mi sembra di aver visto tramite un'applicazione che ho da dover accettare accettare non messaggi solo da accettare oltre 25.000 messaggi quindi capite bene che eh ciao ciao Giovanni Attardo ciao Severo Grieco ciao Stregone CR ciao Gaetano Presta ciao Sabrina Adin poi vediamo ciao bea armi cookie bts trisi mamma mia ragazzi ci sono alcuni con dei nomi fantastici ciao denise robles ciao sofia presta ciao carmelina sileo il ragno e il pinga limonami così ciao fed88channel dai ragazzi grazie a tutti per essere stati qua con me oggi per due ore e trentasei minuti grazie di cuore per tutto per i messaggi grazie di cuore per ogni singolo momento che mi dedicate anche soltanto guardando il mio video io non smetterò mai di ringraziarvi abbastanza non potrò mai veramente riuscire a ripagarvi in qualche modo per tutto quello che state facendo per me ma io proverò sempre e ripeto sempre a strapparvi un sorriso a cercare di rendere le vostre giornate più leggere Fabio e i livi nabbo lo so e sono fiero di essere nabbo perché ti svelo un segreto essere bravo su getting over it non serve a niente nella vita soprattutto per cui sì sono nabbo ma perlomeno essere nabbo fa in modo che io riesca a divertire le persone che è la cosa più importante vabbè anche io cosa mi metto lì vabbè comunque e ragazzi lo so lo so però la live sta durando tantino ho la testa che è tipo implosa in realtà dentro è esplosa voi non lo vedete ma in realtà dentro già il cervello è piccolo no e adesso sta iniziando a girare su se stesso della serie basta dai facciamo che probabilmente la prossima settimana faremo un'altra live sempre di domenica sempre verso o le 4 o le 5 vi faccio sapere in settimana con Geometry Dash così stiamo ancora un pochino di tempo insieme e boh cosa allora Giuseppe Larussa cosa fai dopo la live allora ora probabilmente uscirò per vedere se riesco ad acquistare una nuova videocamera perché questa non mi piace più moltissimo e poi dovrò probabilmente registrare così mi porto avanti e poi starò sveglio tutta la notte per montare il video e poi si ricomincia e così più o meno però sì penso che questo farò anche Minecraft vediamo raga non vi preoccupate che tanto si può fare nel senso non c'è fretta ciao Thomas Jalenti e boh ragazzi siete tantissimi tanti tanti Daniela ciao Daniela talloru puoi salutare me la mia best ti seguiamo da quando avevi 50 iscritti ci chiamiamo Chiare Giulie ciao Chiare Giulie non so perché effettivamente si parla di 4 anni fa più o meno quindi è dura 50 iscritti Matteo Mendes ma il tuo piccino si riscalda troppo no raga ho delle ventole che sono così sono proprio così possono raffreddare proprio i cibi no no raga tranquilli che non ha problemi poi comunque possiamo portare anche nuove serie soltanto in live proprio tipo dei gameplay non lo so di qualche tipo ma che portare soltanto in live e non nei video normali non ci sono problemi e boh ciao storm 006 grazie mille io vi vorrei far vedere la chat è assurda è assurda e beh dai comunque ragazzi io vi saluto perché sennò non finisco più io starei con voi per sempre qua e quindi è meglio salutarci dirvi che ci comunque in settimana ci vediamo sul canale mi raccomando guardate i video ovviamente se vi va e niente ragazzi ci vediamo il prima possibile ci sono state altre donazioni daniele abbondante un euro grazie mille daniele e mautone vincenzo un euro grazie mille vincenzo così ho letto tutte le donazioni raga però basta con le donazioni tenetevi i soldini e niente allora ci vediamo in settimana ci vediamo su instagram mi raccomando di andarmi a seguire così ogni tanto ciao storm 006 così ogni tanto potete vedere le storie dove vi dico novità cosa si può fare vi chiedo di fare qualcosa magari perché sto per registrare un video dove vi voglio mettere in mezzo detta così è bruttissima però lì potete sentire tante cose quindi mi raccomando andatemi a seguire l'ho detto tipo 50 volte oggi e niente raga dai allora io vi saluto e l'ultimo Joe ARB sono arrivato adesso dove sei arrivato non mi sono mosso di un millimetro sono arrivato dove c'è quel bambino sullo scivolo e poi sono di nuovo tornato all'inizio non ti sei perso nulla che bello dai raga allora io vi ringrazio ancora per tutto quanto per essere stato stati in mia compagnia grazie di cuore a tutti vi mando un bacio immenso siete fantastici e io vi saluto raga sono devastato ho la schiena morta ci sentiamo prestissimo raga mi raccomando rimanete sul canale sempre aggiornati perché usciranno tantissimi video in questa settimana tipo anche la prova non spaventarti probabilmente e molte altre cose mi raccomando non perdetevi niente ciao ragazzi vi mando un bacione ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti